Ben ritrovati amici da Runway Sport QN4 con Onofri Colucci. Ritorniamo a parlare ancora per una volta della migliore scelta della nostra scarpa da running. Quando si parla di resistenza si parla di aspettative personali, ovvero è abbastanza logico aspettarsela in maniera elevata da calzature stabili o anche dalle scarpe a massima ammortizzazione o anche quelle da trail. Mentre invece essa non può essere pretesa dalle leggere scarpe da gara, ovviamente. Essendo le scarpe formate da vari elementi, la resistenza può essere declinata nella resistenza stessa dei vari elementi, quali la suola e l'intersuola. Sarebbe pertanto opportuno che tutti gli elementi fossero progettati per avere una durata omogenea. Nelle scarpe da running la durata della stessa capacità di ammortizzazione svolge comunque un ruolo determinante. È per questo motivo che i migliori brand inseriscono nelle aree più critiche delle intersole elementi particolarmente durevoli, quali cuscini di aria, di gel o particolari elastomeri Iptich, ecc. Un'ammortizzazione durevole è un elemento in grado di aumentare la sicurezza delle stesse calzature. Per quanto riguarda poi il peso specifico, alcuni studi hanno valutato che, nel caso di un atleta che corre all'80% del suo consumo di ossigeno, una variazione di 100 grammi di peso per ogni scarpa può determinare una variazione prossima all'1% del suo consumo di ossigeno. Si è stimato che, a seconda della velocità di corsa, questa variazione può portare a un guadagno pari più o meno all'1-2 secondi al chilometro. Quindi, l'abbassamento del tempo, derivabile dal solo fatto di correre con una scarpa più leggera di 100 grammi rispetto a un'altra, può essere pari a 10-20 secondi su una distanza di 10 chilometri, o da 42 secondi a 1 minuto e 24 sulla distanza maratona. Terminiamo anche qui questa ennesima piccola analisi e considerazioni per il migliore acquisto della scarpa più idonea per la propria corsa. Ci risentiamo presto per altre nozioni più importanti da Runway Sport, qui a Necattaro, con la migliore consulenza mia. Da Onofre Colucci è tutto, a presto!